Allora ragazzi devo fare un attimo intro da youtube eh? Pronti per intro da youtube? Siamo pronti? Oddio! Oddio no! Quella scensore no! Elevator Trent! Oddio cos'è questo gioco? Ho troppa paura! Andiamo a scoprire insieme! Oddio è pieno di sangue! Ci sono dei mostri non lo so! Che intro ragazzi! Ho solo bisogno di mettere gli ultimi giornali su ogni porta degli appartamenti e questo è fatto e finalmente avevo il mio primo stipendio! Ragazzi siamo dei porta giornali quindi un lavoro onesto umile persone che spariscono digita o qualsiasi numero e ti farò entrare 269 ho aperto il 269 chi è? Qualcuno ha risposto? Si può? Grazie! Sono il ragazzo dei giornali salve e buonasera! Mi piace molto l'illuminazione! Allora cosa prendiamo? Le scale e l'ascensore? Non voglio più prendere l'ascensore qualche alternativa? Ah è vero devo mettere i giornali sulla roba! Poster! Poster! Non giornali poster! Sono il miglior attaccaposter del mondo! Facile! Senza alcuna conseguenza! Divertente e bello! Sicuramente i condomini che vivono qua tutta gente simpaticissima e pieni di personalità si nota da come sono arredati i corridoi! E pigliamo sto ascensore! Ma quanti piani ci sono? Nove piani! Che lavoro di merda! Ah ero già il primo! Ah che cazzo era? Che cazzo era? Cos'è cos'era? Eh salve il suo ragazzo dei poster! Metto giusto qualche poster in giro ok? Come hide? Ma hide da cosa? Eh belle queste facce! Va tutto assolutamente bene! Senza alcun problema! Andiamo al terzo! Ok! Perché c'è un mon... Cosa? Cristo è... Quella... oh! Oh cazzo! Come shift! Hide! 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 Che è quel signore? Magari il custode? Direi che è atta bene! No? Sì! Bello! Cadino! No mi piace! Bene ma continua così! Bene! Mettiamo gli ultimi poster! Oh cazzo che hai preso l'ascensore Chi è? Chi è arrivato? Ok, chiamare l'ascensore Chiamare l'ascensore Stay, rimani dove? Dove devo rimanere? Ma manco per cazzo? Quinto, 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 quinto Ho quarto, quarto, easy, quinto Ah, ah, ah I peli? Mi stavo cercando di pelare? Io voglio sapere chi è chi mette le tombe Ok, non voglio più saperlo Ok, tutto buio, è ancora tutto più buio E' permesso Fixiamo la light Prego, vi fate anche interventi di manutenzione, è un piacere Ok, un volantino qui Un volantino qui Tutto a posto Io me ne vado Oh cazzo, pensavo ci fosse qualcuno Ok, ok, ok Vado al quinto, possiamo farcela ragazzi Possiamo farcela, dai, basta stringere i denti Andrà tutto bene Anche qui, su questa porta Che nessuno aprirà mai L'importante, quando si fa un lavoro No, 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 si fa per bene fino alla fine Ma non è un tavolino volante È un tavolino volante Quella porta è aperta Salve Bene la croce che avete qua fuori Molto caratteristica Dove entrare, secondo voi? Permesso? Si può? Eh, guardi Avete dei problemi con la luce? C'è qualcuno? Perché qualcuno ha ansima? Chi è che ha ansima? C'è qualcuno in difficoltà? Devo chiamare un'ambulanza? Ok, ragazzi Cosa? Caa? Chi è che ha acceso la radio? Io salirei, eh Easy sesto Fatta, ragazzi Ah, mi piacciono questi appartamenti di Milano Si vede che ne vale il prezzo Dai, 600 euro per tutte queste belle stanzette C'è anche della musica Un pochino più atmosferico se sto piano Molto carino Ah no, qua si vede che più in alto vai Più sono ricchi Più ci tengono all'arredamento Cosa cazzo? Bellissimo, ragazzi È la famosa clip Degli Kleenex E vi ricordo che questo video Non è sponsorizzato dai Kleenex, eh Bene, io ho messo tutti i volantini E me ne vado Questo sesto piano è stato un gioco da ragazzi Ok, ancora i Kleenex Bella questa sedia Sedia i Kleenex Incomincia ad elinearsi qualcosa Non capisco cosa Nel dubbio Continuo a finire di fare il mio lavoro Perché mi serve quello stipendio Devo assolutamente comprimmi con la Play 5 Ok Chi è che sbatte? Io no Io non l'ho sbattuto, giuro Ok, io non l'ho sbattuto di nuovo Chi è che sta sbattendo? C'è qualcosa che non va con questa pubblicità? Ragazzi? Ragazzi? Bella! La culla sul tetto! Andiamo all'ottavo, vai Allora ragazzi Ottavo Qua c'è il tema dell'amore per l'ottavo Guardi Ho decisamente sbagliato piano Ah, ho messo un po' di musica Le piace eh? Così lei è un coinquilino Molto bene il vostro condominio eh Le interessa questo Halloween Party? Non dovrebbe perdere l'occasione di andarci Ragazzi è sparito il condominio Per adesso Scusi Mi è sparito il condominio Sto entrando Per adesso Bello il suo bambino Che bel bambino Che bel bambino È veramente carino Qualcuno vuole i volantini? Per la festa di Halloween È un party bellissimo di Halloween Abbiamo messo tutti i volantini Bene Secondo me verranno il party Vedo l'ora di vedere tutte quelle persone che verranno il party Sargarsi i miei manifesti Che è fatto di bello qua? Devo reactare eh? Un vestito Qualcuno che guarda dalla fine No Signore Signore No Cosa Cosa Signor Cosa sta Scusa sto Bello Ah il mattimonio È anniversario Guarda che fa il floss Fa tipo la danza del floss Tipo Fortnite Arcanza Ma perché il bambino beve dalla birra? Perché ci sono delle persone che litigano? Ok adesso siamo lupati Eh qua sono i ricchi Tutti i coridòi portano ad una porta Faccio questo lavoro da anni So benissimo che ci sono sempre delle porte Visto? Ogni volta c'è sempre una porta Mettiamo un ultimo volantino E possiamo dire che la giornata è conclusa E abbiamo concluso il nostro lavoro Senza alcun problema Prendiamo l'ascensore E ce ne andiamo Arrivederci Il lavoro più facile del mondo Beh Non dico che sia stato Super easy Però devo dire che me l'ha sono anche cavata Alla grande A piazzare quei volantini Che ne dite eh Grazie l'ascensore non funziona Grazie l'ascensore Cosa sta succedendo l'ascensore Grazie È un po' vecchio forse l'ascensore Oh eccoci Siamo fuori Oh cazzo Oh no Siamo nelle back room Sinistra o destra? Sempre a destra Dove siamo? C'è un'uscita? Permesso? Siamo al custode C'è qualcuno Perché è tutto buio Ok Ok Non andare via luce Rimani luce Ah siamo in svinterrato Giustamente prendiamo le scale O io siamo in svinterrato a una scala Oh no Perché c'è Oh cazzo Eh Che devo fare? Che succede? Siamo al bimbo Diamo qualche indicazione C'è qualcuno Che può darmi la mano E là Qualcuno mi dice Ma Che Cristo Ma cosa Cristo Ma perché c'è Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Perché tutta questa gente Ma Ragazzi Era solo un momento Da Logan Paul Era solo un momento Da Logan Paul Il fatto Bene è stato un piacere La trovo un'ingiustizia La trovo un po' Ah L'unica cosa che ho capito veramente È che a Milano Gli appartamenti Gli affitti Sono sempre un'avventura Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.